Fare sport è una fatica senza fatica, per cui cominciamo, va bene? Side plank da un lato, dopodiché dall'altro, ci siamo? 3, 2, 1, andiamo, side plank da un lato, stiamo fermi lì con la gamba un pochino sollevata, dai, 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 andiamo, 30 secondi, dai mantenete questo lato, solo 30 secondi, ne mancano ancora 10, dai, vai, 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 la gamba un po' sollevata, 3, 2, 1, ora solleva la gamba per 20 secondi, qua fai fatica e ne fai un bel po', dai, solleva piano piano la gamba su, 10 secondi ancora, dai, 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 5, 6, 3, 2, 1, pausa, ti prepari subito, andare dall'altro lato, si riparte in 3 secondi, 2, 1, vai, plank con la gamba sollevata, plank con la gamba sollevata, andate, dai, 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 vai, 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 tenete, ancora 15 secondi, plank con la gamba sollevata, andate, questo è veramente tosto, è veramente, veramente tosto, dai, ora solleva la gamba, apri e chiudi con l'elastico, in mezzo alle gambe, dai, vai, 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 solleva, 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 3 secondi, 2, 1, pausa, adesso, spiderman con l'elastico tra le gambe, guarda, tra le braccia, ci mettiamo qua, via, elastico tra le braccia che tengono tensione, e poi faccio spiderman, per 30 secondi, vai, 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 l'elastico è in tensione tra le braccia, l'elastico è in tensione tra le braccia, vai, ancora 5 secondi, dopo, mi fate il cross mountain climbers, ora, cross mountain climbers, da qua, vai, 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 10 secondi ancora di cross mountain climbers, 3, 2, 1, pausa, adesso, sit up, con l'elastico tra le mani, vai giù, e rendi su così, eh, via, hop, e vai, e vai su, sit up, tenendo l'elastico tra le mani, per 30 secondi, eh, vai, 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 hop, 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 continua, 3 secondi, 1, ora, sit up and punch, sei in tenastico, dai, sit up and punch, continua, vai, 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 si dà quel punch, ancora 5 secondi, 3, 2, 1, pausa, bus sit rotation, tenendo l'elastico tra le mani, 3 secondi si parte, posizione di bus sit, rotazione, dai, così, ruotiamo bene, ruotiamo bene, ruotiamo bene, ruotiamo bene, vai, 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 ancora 10 secondi, continuo, ruotiamo bene, continuo, ruotiamo bene, tenendo in tensione l'elastico tra le mani, hop, adesso, bus sit, e faccio il movimento dell'elastico avanti e indietro, dai, hop, vai, 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 muovi bene, vai, vai, ancora 5 secondi, puoi arrivare a pausa, 1, pausa, 1, pausa, plank, posizione di plank, elastico sotto le mani, e lo tengo, fermo, cosa faccio per 30 secondi questo, porto su, 1, 2, 1, 2, all'altro lato, dai, hop, vai, vai, porta su, porta su, dai, continua, 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 hop, ancora 10 secondi, qua fai lavorare anche la schiena, eh, dai, 5 secondi, hop, 2, 1, da qua, cross mountain climbers, vai, ragazzi, è praticosissimo lavorare con gli elastici, ve l'abbiamo spiegato con Nico qual è la cosa, che si fa un pochino di fatica sia, mentre lo stai facendo, pausa, ora, elastico, in mezzo, dai piedi, così, su e giù, apro giù, vado su e apro su, leg raise, apro e chiudo, hop, 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 è un leg raise che apro sia in alto che in basso, vai, vai, leg raise, apro e chiudo, dai, ancora, 5 secondi, non mollare, 2, 1, tamburello, adesso mi fa il tamburello, tenendo, però, le gambe aperte, tamburello, dai, con le gambe aperte, leg hold, gambe aperte, tensione nell'elastico, su, 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 5 secondi, 2, 1, pausa, ultimo esercizio, ci siamo, crunch 90, ci sei? vai, vai, crunch 90, tenendo sempre tensione, vai, tieni la tensione, tieni per la tensione, sono 30 secondi, di crunch 90, con le gambe leggermente aperte, con l'elastico che ci può fare resistenza, ancora dieci, 8, dai, 3, 2, 6, ora, crunch 90, con le gambe, con le gambe, sempre con l'elastico nello stesso punto dalle gambe, e vai a fare crunch 90, continua, solo 10 secondi, poi è finito, con l'addome, dai, ho, 5, 3, 2, bang, sono sudatissimo, sono sudatissimo, vedete se questo funziona? no, la musica non ci vuole, benissimo, non fa niente, allora, il primo wall sit, 30 secondi di wall sit, mettete già l'elastico, immette le gambe, ok? Ci siamo? Eh, non c'è la musica, mi è saltata, non posso dire il motivo, cosa sia successo, la musica non vuole andare, è impossibile riprodurre il file, boh, cosa sia successo non si sa, niente, non c'è la musica, allora, parlerete con me, male, va bene, non succede niente, alterniamo wall sit con l'elastico, immette le gambe, va bene? 5 secondi si parte, siete seduti, l'elastico, scopo sopra le ginocchia, siete seduti lì, via, 30 secondi, fermi qua, wall sit con l'elastico che è un pochino in tensione, è sempre il primo esercizio un isometrico, il secondo invece è un po' più dinamico, vai, ancora 15 secondi, dai che ci siamo, il secondo è un granchio tutto da un lato, cosa vuol dire granchio tutto da un lato? Che ci muoviamo solo verso un lato, passi piccoli ovviamente, 2, 1, via, granchio, solo lato destro, come facciamo? Giriamo praticamente un pochino intorno, vi toccherà, dammi le spalle, e vabbè, vi darò le spalle, fate il granchio, solo, dal lato destro, va bene? dai, continuate, 10 secondi, ho, ho, dai dai dai, 5, brucia il gluteo, brucia, pelino eh, pausa, 30 secondi, ora, wall sit, altri 30 secondi, poi granchio, solo, lato sinistro, dai, oggi vogliamo andare tutto storto, raddrizziamo tutto ragazzi, si approccia di partire, sempre, wall sit, dai, wall sit, fermi, seduti lì, così, l'elastico serve per dare tensione, per cui è un doppio lavoro, in questo caso, wall sit, va bene? Dai, 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 continua, continua, vai, 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 ho, 5 secondi, continua, ora, granchio, verso sinistro, sinistra, passi, sempre molto piccoli, eh, passi piccoli, passi piccoli, dai, ho, ho, dai, 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 passi piccoli, passi piccoli, io mi do sempre le spalle, dai, granchio, solo da un lato, camminiamo, seguiamo dei fatti, dai, 5 secondi, 3, 2, 1, pausa, 30 secondi, provate adesso che riesco a mettermi la musica, mi provo a mettere la musica in un altro computer, allora, vediamo se qua funziona, vediamo, ho provato a mettere la musica in un altro computer, allora, vediamo se funziona, bene, elastico, zona caviglie, teniamo su le gambe e stiamo lì, fermi, con le gambe su, leggermente aperte, dai, 30 secondi, posizione isometrica, fermi in quel punto, state fermi lì, altri 10 secondi, dai, l'elastico è delle caviglie, dai, 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 3, 2, 1, appoggi, fai 30 secondi di push-up, 30 secondi di push-up, vai, dai, ho, su e giù, l'elastico è sempre tra le caviglie, cioè all'altezza delle caviglie e tengo sempre un po' di tensione sulle gambe, dai, ho, vai, 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 5 secondi ancora, poi la pausa, 3, 2, 1, pausa, allora, l'elastico, guarda anche la musica adesso, l'elastico a questa altezza qua, quando faccio il superman, cammino con una papperella, ho fatto, ce l'ho fatta con la musica, quando faccio il superman, io sto su sempre sollevato, le gambe tengono verso l'esterno, che così faccio, sto facendo le gambe, ok? 5 secondi si riparte, vi mette le gambe a far vedere, così lo vedete, superman, gambe aperte, così lavora sia, la parte non va, ma lavorano anche le gambe, 30 secondi, eh, state fermi lì, fermi lì, dai, ho, vai, 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 cambio, push up, 30 secondi di push up, torno di qua, torno di qua, il push up se vuoi, lo puoi tranquillamente fare con le ginocchia a terra, in questo caso, però se lo fai con le ginocchia a terra, non riesci a fare la porta sugli elastici, continua, 5 secondi, 3, 2, 1, pausa, oggi è sempre così, 30 secondi di isometrico, 30 secondi di dinamico, 30 secondi di paura, io qui cambio l'elastico, questo elastico rosa, che dopo vi metterò tutti i link, nei miei elastici, è più duro, ora ne prendo uno un pochino più morbido, che è quello che ho fatto per l'addome, cominciamo, elastico sempre, a livello delle caniglie, il primo è isometrico, quindi, vado indietro, e mantengo, mantengo la gamba dietro, tutto con la destra, sto fermo lì, 30 secondi, mi vedi? Così, stai fermo, 30 secondi in questa posizione, esercizio isometrico, stai facendo su questa parte qua, eh? Vai, vai, 2, 1, adesso, 1, squat, gamba dietro, dai, squat, gamba dietro, dai, squat, gamba dietro, tutto con la destra prima, 30 secondi, solo, gamba dietro a destra, squat, gamba dietro, dai, hop, hop, squat, gamba dietro, squat, gamba dietro, dai, hop, 2 secondi, 1, pausa, dopo, quindi fra 30 secondi, tutto con la gamba sinistra, quindi il primo è il mantenimento della gamba dietro sinistra, ferma, poi squat e dinamico della gamba dietro, dai, oggi molto muscolare, ma lavoriamo bene, glutei e gambe, 5 secondi si parte, mantenimento isometrico della gamba dietro sinistra, vai, stai fermo lì, mantenimento isometrico della gamba dietro, vai, 30 secondi, eh? Mantieni bene la gamba in quel punto, ferma lì, ferma lì con la gamba, ancora, 10 secondi, anche equilibrio, guarda un punto fisso, e concentrati, 5 secondi, 3, 2, 1, squat, gamba dietro, squat, gamba dietro, dai, hop, squat e gamba dietro, squat e gamba dietro, dai, vai, 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 ho, 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 ancora, 8 secondi, 3, 2, 1, pausa, ora, ponte glutei isometrico, come lo voglio il ponte glutei, in questo caso, il ponte glutei in questo caso lo fai isometrico, elastico, livello delle ginocchia, va bene, ti metti giù, vai su con il ponte glutei e apri le gambe, quindi isometrico ma tenendo su le chiappe e gambe aperte, va bene, mi sono messo di pronte così mi metti, 2 secondi, via, su e gambe aperte, dai, stai, 30 secondi in questa posizione, ricordati che il sedere, le chiappe sono sollevate, le gambe sono tenute aperte, l'elastico mi permette di dovermi opporre ad una forza, per cui stai lì, continua, continua, tira ma ce la fai, tira ma ce la fai, dai bombe, 2, 1, ora, da questa posizione apro e chiudo, non è più mantenere aperto, è apro e chiudo, apro e chiudo, per 30 secondi, 30 secondi apri e chiudi, sei sempre su con il sedere, rimani da ponte glutei in su, apri e chiudi le gambe, dai, apri e chiudi le gambe, 5 secondi, poi è la pausa, pausa, dopo me lo rifai, tieni i piedi uniti, tra 20 secondi si riparte, piedi uniti, stai su, gambe aperte 30 secondi, altri 30 secondi in cui apri e chiudi, per il momento è un minuto di lavoro e 30 secondi di pausa, dai, 5 secondi ancora, 3, 2, 1, vai, vai su e apri, ponte glutei e tieni le gambe aperte, questo che è il secondo giro lo senti un po' di più sul gluteo, dai, dai che ti viene un gluteo di ferro, mi chiedete sempre come si fa a fare il gluteo di ferro, tono muscolare, eh, questo è il modo, vai, 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 mantieni bene, gambe aperte, fermo lì, ora apro e chiudo, 30 secondi, apro e chiudo, continua, 30 secondi, apro e chiudo, vai, 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 30 secondi, apro e chiudo, ancora 10, dai che venerdì sera, dopo si esce, apri e chiudi, apri e chiudi, pausa, uscirai che avrai un po' i glutei in fiamme, ma va bene, sempre, spesso elastico, aggiuntori, aggiuntori, posizione di quadrupedia, se non ce la fai, piedi le ginocchia a terra, se ce la fai, stai sospeso sulle punte dei piedi e sulle mani, e cosa fai, stai fermo come per fare la pipì, un cane, stai fermo lì, 30 secondi, via, se non riesci, stai con un ginocchio destro a terra, l'altro sollevato, ho una gamba sollevata, eh, guardate, è su, ritengo, fermo lì, 30 secondi, è dura questo, mi dimentico, eh, 30 secondi così, dai, mi dimentico, sei lì, 30 secondi, ancora 8, ovviamente il secondo quale sarà? apri e chiudo, 3, 2, 1, il primo è disometrico, ora è dinamico, apri e chiudo, dai, se stai con entrambe le ginocchia sollevate è dura, molto, molto dura, 15 secondi, dai, 10, non mollare, è durissima, lo so, 5, 3, 2, 1, pausa, ora me lo fai dall'alto, lato, ragazzi, sto sentando in maniera forte, se non ce la fai, se hai fatto fatica, tieni il ginocchio giù e l'altro lo porti su, se ce l'hai fatta bene, riprovi a fare, stai su tutte dei piedi e sulle mani, vedi te, come preferisci, 30 e 30, eh, via, tieni aperto, mantenimento, 30 secondi, dai, con un canno di nomaschio, che va a marcare il territorio, dai, il territorio di ricotto questo, dai, 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 il ricotto, su, 10 secondi, 8, 5 secondi ancora, 3, 2, 1, apro e chiudo, 30 secondi, stessa posizione, ma invece che mantenere, faccio, apro e chiudo, apro e chiudo, dai, ancora, 15 secondi, miseria, sei dura questa, dai, 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 10 secondi, ho, dai, 5, 3, 2, 1, pausa, questo, ho il gluteo in fiamme, ho il gluteo in fiamme, prossimo, ponte glutei, singolo, isometrico, cosa vuol dire? Ve lo faccio sempre vedere di fronte, ponte glutei su, una gamba la tengo aperta, ok? 5 secondi e si parte, 2, 1, isometrico, su, gamba, e tengo aperta di là, 30 secondi così, ovviamente la parte dinamica come sarà? Che apre e chiudo la gamba, dai, ancora, 10 secondi, sto fermo in questa posizione, 5, 3, 2, 1, apro e chiudo, ponte glutei mono, alto e chiudo, sempre gamba destra, vai, 20 secondi, continua, 12, non mollare, stai sudando, lo so, sto sudando anch'io, 5, 3, 2, 1, pausa, ora, ponte glutei dall'altra parte, come va? Io sono a pezzi ragazzi, è durissimo la volata con gli elastici, è durissimo la volata con gli elastici, dai, 10 secondi e andiamo a fare l'altro lato, 10 secondi e facciare l'altro lato, 3, 2, 1, si parte, su, gamba sinistra, su in questo caso, apro, quindi ponte glutei, apro verso sinistra e sto fermo lì, per 30 secondi, dai, 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 continua, 10 secondi, non mollare, 3, 2, 1, apro e chiudo, apro e chiudo, apro e chiudo, continua, continua, 15 secondi, apra e chiudo, apro e chiudo, 10 secondi, vai, 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 5, 3, 2, 1, pausa, ragazzi, questo mi ha ucciso, questo mi ha ucciso, 30 secondi di pausa, poi abbiamo gli ultimi minuti, dai, da laterale, come state, state bene, alzata laterale, elastico, a livello camiglie, isometrico laterale, fermo così, tenete fermo lì, isometrico lì, fermo, 30 secondi, lato destro, dai, 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 30 secondi, lato destro, ancora 7 secondi, 3, 2, 1, apro e chiudo laterale, apro e chiudo, brucia la parete, brucia la parete alla fine di questo, dai, dai, apro e chiudo laterale, ragazzi, gli elastici fanno lavorare gambe e glute in maniera folle, dai, 10 secondi, 8, 5, 3, 2, 1, pausa, altro lato, alzata laterale, sto sudando compatto, alzata laterale e mantengo, alzata laterale, elastico, dalle camiglie sempre, 10 secondi si parte, mantieni aperto, eh, 5, 3, 2, 1, su, mantieni aperto, stai lì, fermo, mantenimento, eh, devi andare su abbastanza che l'elastico sia in tensione, l'elastico deve essere teso, so che 30 secondi con l'elastico teso è dura, ma ce la devi fare, dai, bombe, lo senti il gluteo, metti la manina, metti la manina sul gluteo, dai, 5 secondi, 3, 2, 1, apro e chiudo, apro e chiudo, il lato sinistro è il mio lato debole, qua sto facendo molta più fatica, dai, dai, apri e chiudi, ancora 20 secondi, 15, dai, vai, 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 10, non mollare, 5, 3, 2, 1, pausa, ora, mantieni l'elastico, sempre, a livello delle camiglie, facciamo, ancora, non stai lì, mantenendo così, va bene, il secondo sarà così, da qua estendo la gamba indietro, anzi, di più, cambia in diretta, cambia nella scaletta, dai, 5 secondi, 3, 2, 1, ora, la porta su e giù, quindi guarda su e giù, su e giù, è durissimo per il gluteo, dai, poi dipende da che elastico stai usando, da quanto è duro, dai, 10 secondi, non mollare, dai, 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 3, 2, 1, pausa, ora, altra gamba, mi sollevi e mi mantieni su, sollevi e mantieni su, eh, durissimo ragazzi, sto sudando come un patto, sto sudando come un patto, oggi abbiamo capito che basta un elastico per farsi un gran matto, dai, 2, 1, mantieni sollevata sulla gamba, isometrico, devi avere tensione, vai, 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 mantieni su, mantieni su, mantieni su, mantieni e sollevata bene la gamba, 5 secondi, 3, 2, 1, su e giù la gamba, su e giù, muovila in maniera è la dinamica, vai, vai giù e su, vai giù e versù, hop, hop, dai, 15 secondi, 12, 10, 10, molto bene il muscolare di oggi, dai, 5, 3, 2, 1, bene, ho il gluteo in fiamme, si ripete 2 volte, sono 4 esercizi da ripetere 2 volte, per cui ho 20 10, sono 4 minuti, ragazzi giusto voi, ma ho la parte delle gambe e la parte dei glutei che ha lavorato veramente un casino, tosto vero, lo rifacciamo gli elastici, lo rifacciamo gli elastici, dai, però ora ti voglio uccidere col fiato, 20 10, il primo è un drop squat, va bene? 5 secondi, dai 2, 3, 2, 1, vai drop squat, vai su giù, qua vai a canna, riprendiamo un pochino di glutei, un richiamino, non fa mai male, dai, hop, hop, 5 secondi ancora, 3, 2, 1, pausa, 20 secondi di push up, ti vuoi con le ginocchia a terra, 2, 1, vai, 20 secondi di push up, hop, hop, dai, 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 mancano 10 secondi, 5, 2, 1, pausa, squat 90 gradi, di qua, di là, di là, 20 secondi, preparati, via, squat 90 gradi, vai, 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 fai lavorare le gambe, i glutei, però mi mangi il suono con un pochino il cuore, hop, hop, vai, 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 5 secondi, 3, 2, 1, pausa, monta in grande, 20 secondi, sul cuorecino, via, 20 secondi di monta in grande, vai, 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 non non andare, continua, 10 secondi, continua, 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 5, 2, 1, pausa, drop squat si riparte siamo in età dai 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 2 1 drop squat hop hop dai bombe seguimi 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 10 secondi dai 16 dai 16 2 1 drop push up 20 secondi 3 secondi si parte 2 1 vai 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 push up bene push up push up 10 secondi continua 5 pausa squat 90 stiamo quasi alla fine oggi dai dopo vediamo un foam roller squat 90 hop 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 dai dai continua 10 secondi vai 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 5 3 2 1 spalzata morta in grande scaviamo 3 2 1 vai morta in grande hop hop vai 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 continua bene manda sul cuore hop 5 secondi 3 2 1 spalzata oggi si approvano perché perché la parte piuttosto la mia uva